Continua la battaglia in difesa del Museo Winterline di Venafro. Sulla questione è intervenuto anche il Presidente del Consiglio regionale del Molise. Il museo non si tocca, ha detto Vincenzo Cotugno, che ha annunciato di aver ottenuto la proroga di 60 giorni dallo IACP di Isernia per i locali in uso al museo. Un risultato importante che intanto concede tempo. Questa proroga di due mesi, afferma il Presidente Cotugno, ci lascia il tempo per individuare una soluzione definitiva al problema, affinché non venga più messa in discussione la permanenza a Venafro dello storico sito museale. Quando le istituzioni lavorano nella piena collaborazione, il commento finale del Presidente del Consiglio regionale, con spirito costruttivo e senza polemiche, si riescono ad ottenere i risultati sperati.